Ma quanto costa fare la spesa in Brasile? Hola chicos que onda, oggi vi porterò con me a fare la spesa per la mia casetta qui in Brasile e cominciamo con questo orrore, con questo obrobrio che si dovrebbe chiamare pizza la mia faccia dice tutto, mi madre che odora il coccolino e mentre mi madre fa la sommelier con i coccolini e con i detersivi io sono a ricerca della pasta che ho trovato, eccola qua c'è solo la de cieco ma non ci lamentiamo il prezzo convertito all'euro, perché qui ci sono i reais, è di 4,38€ ovviamente ho preso le farfalline e le fettuccine ragazzi e che possono mancare i tortelli, i tortelli con tu saboni augurte rigorosamente per bambini, anche se manco votio quello che mi è succiata la panza ogni volta che me lo mangio la mattina parmigiano, ho molta paura anche se c'è la bandiera dell'Italia ma secondo me c'è soltanto i colori dell'Italia sale perché ci serve, continuiamo a camminare e prendiamo le olive, queste non possono mancare pomodori e riso, perché la panza deve essere piatta quindi se me lo mangio il riso, rigorosamente integrale con noi mamma ho comprato questa busta bellissima con la bandiera del Pride eccoci arrivata la cassa, penso di non aver mai svaliggiato un supermercato così tanto non vi sto più a pefindus per i fondelli e abbiamo pagato esattamente 84€ ne vogliamo parlare? Non ne parliamo potremo sfamaneserci con tutto sto cibo quindi buona cena, vediamo, ciao!